Arriviamo, ci vuole l'albero, ci vuole l'albero, ci vuole l'albero. Abbiamo piantato un albero, che c'era la foto, che c'erano sulle mele. Scuola in festa a Piario per la giornata degli alberi. Una manifestazione realizzata grazie agli insegnanti, al gruppo micologico Bresadola, alle guardie ecologiche della comunità montana, al corpo forestale dello Stato, e al gruppo era del Novecento di Rovetta. Ormai col CDD Centro di Urno Disabili di Piario e i ragazzi delle scuole di Piario, sono diversi anni che collaboriamo, i ragazzi vengono anche alla mostra, anche già quest'anno stanno preparando qualcosa per la 34esima mostra, sia pure le scuole di Piario e un appuntamento molto importante è la festa dell'albero. Collaboriamo già da diversi anni, ieri siamo venuti appunto nel campo a preparare il prato, abbiamo preparato le cose per seminare la patata e abbiamo invitato anche il signor Giovanni di Rovetta che di patate penso possa dire la sua. L'intento è avvicinare i bambini alla natura. Alla giornata hanno partecipato gli alunni della scuola materna, quelli delle elementari, e con loro gli ospiti del Centro di Urno Disabili di Groppino, che hanno condiviso con i piccoli amici la gioia di stare insieme in una mattinata caratterizzata da cielo sereno e dalla temperatura mite. Il sole ci ha gratificato e inizieremo la nostra manifestazione piantando alberi da frutto, qualche ulivo e in modo particolare le patate, così facciamo vedere anche i ragazzi che le patate non si trovano nei sacchetti o le patatine fritte, però si piantano, vediamo il frutto e come crescono. Poi ci sarà la raccolta autunnale con la festa appunto della raccolta della patata, perciò un bel abbinamento e anche i ragazzi, abbiamo invitato anche i ragazzi del CRA qua vicino, perciò c'è un bel abbinamento tra i ragazzi dalle scuole, scuole elementari materne e il Centro di Urno Disabili. Dopo aver recitato poesie e cantato, gli alunni, aiutati dagli adulti, hanno proceduto alla piantagione di diversi alberi da frutto. Il Signore ci ha detto di metterci intorno e tenere l'albero e poi il Signore ha messo la terra intorno all'albero.